Questa volta ci pensa il Governo a risolvere il nodo dei parcheggi estivi rimasti appesi alle lungaggini burocratiche tra piani della mobilità in area parco e procedure di via e paura. La Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento con il quale si dà la possibilità ai comuni costieri dotati di piani urbani della mobilità sostenibile di effettuare le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio soltanto con la comunicazione dell'avvio dei lavori in quanto considerate attività di edilizia libera purché destinate ad essere immediatamente rimosse entro lo scadere dei 180 giorni. Tali opere quindi sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica. Otranto, Melendugno, Ugento e Gallipoli sono le aree maggiormente interessate dalla vicenda del blocco delle autorizzazioni per le aree di sosta stagionali. Stiamo approfondendo la legge, c'è uno spiraglio che ci va a guardare positivamente a questa stagione. Nelle prossime ore ragioneremo su come poter usufruire positivamente di questo emendamento approvato in Senato che ci dà un aiuto nell'accelerazione rispetto alla programmazione che abbiamo costruito in questi mesi. Proprio a Gallipoli è stato inaugurato un maxiparcheggio dove un tempo sostavano le giostre e nei momenti di festo si accendeva la focaredda di Sant'Antonio. L'area di via Zaca ora ospita un grande parcheggio pubblico con 306 posti auto con stalli riservati e diversamente abili, una quindicina di posteggi per ciclomotori, nuova illuminazione pubblica oiole verdi. L'area è quella ridosso della zona cimiteriale proprio all'ingresso della città provenendo dall'ex provinciale Pertaviano ed è disciplinata con collegamenti integrati con bus e navette per consentire di lasciare l'auto fuori dal perimetro cittadino e raggiungere il borgo e il centro storico. Le macchine possono arrivare direttamente dall'uscita della superstrada a parcheggiare e a piedi raggiungere il corso e il centro storico. È un parcheggio che è già funzionato perché l'anno scorso nonostante non fosse finita la fase di piantumazione, le piccole rifiniture abbiamo deciso di aprirlo lo stesso ed è stato un polmone fondamentale che ha funzionato tantissimo, ha dato respiro alla città.